Salve, sono Mariuccia Cannata, sono un'attrice siciliana, nasco in teatro, nasco con ruoli comici. In teatro ho lavorato con Marcello Perracchio, con Angelo Russo, la famosa Catarella, ho lavorato con Letterio, Enrico Guarnieri, sono stata sempre con ruoli co-protagonista. Ho lavorato in diversi ruoli cinematografici, con Fissione Italiane, con me che è commissario Montalbano, sempre con ruoli da caratterista, con commissario Montalbano, con il giovane commissario Montalbano, l'ultimo lavoro ho fatto il commissario Martese, non era un ruolo comico, lì un ruolo serio. Sono partecipata a questi programmi televisivi, a me piace un po' mettermi sempre in gioco, e da vent'anni sono ospite ad Antenna Sicilia come cabarettista. Come cabarettista, diciamo il mio punto forte, io vado, giro molte piazze della Sicilia. Ho vinto diversi festival, i festival Totò e la Comicità, dove sono arrivata prima comica, primo premio giornalista, primo premio critica, primo premio... insomma, vincito a casa tutti i coppi che c'erano. Benissimo, cosa dirvi? Mi piace interpretare ruoli comici, ma mi piace anche chi sa far ridere, sa fare anche piangere. Mariuccia Cannata, 60 anni, ho detto tutto. Un bacione.